Se ne va quello che viene considerato il capo o comunque uno dei capi di Cosa Nostra, condannato per fatti di una gravità inaudita, stava scontando in carcere, se non ricordo male, 26 Ergastoli, persona che non ha mai mostrato un benché minimo cedimento, quindi persona crudele, un criminale che non solo ha fatto soffrire le vittime ma ha attentato anche alla tenuta democratica del nostro paese. Con lui se ne vanno però anche dei misteri, perché noi dobbiamo capire che cosa c'è stato in quella stagione, soprattutto del 92-93 delle bombe, e quale è stato il ruolo di pezzi dello Stato. Tant'è vero che è in corso un processo sulla trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra, e quello che è grave anche negli ultimi tempi, Totò Rina, nonostante malato, mandava dal carcere in 41 bis messaggi di morte nei confronti di un pubblico ministero onesto e coraggioso come Nino Di Matteo, che è stato uno dei titolari delle indagini sul procedimento penale della trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. Quindi questa è la riflessione che mi sento di fare con riferimento alla morte di Totò Rina.